Tra sole, sport e tanto, tantissimo divertimento prosegue senza sosta il Camp Entella qui in Colmata Mare. Tante storie da raccontare, provenienze differenti perché il calcio unisce, l'estate unisce un momento d'incontro, ma soprattutto qui regna sovrano il divertimento, la voglia di sorridere e di giocare a calcio. Giro di nomi. Andrea Giudici. Mattia Vizzocaro. Giacomo Ravenna. Marco Servente. Stefano Cipro. Sascha Guidi. Tante storie nel Summer Camp Entella, tante provenienze, ad esempio. Qual è il tuo nome? Seth Chico. Where do you live? In Edinburgh, in the United Kingdom. E questa è una bellissima storia perché è un camp che unisce, un camp che non conosce distanze. Perché hai scelto il Camp Entella? Per venire a divertirmi e passare delle belle giornate a giocare a calcio, ed è quello che è successo. Il calcio è la tua passione? Ti sta divertendo in quest'estate bianco-celeste? Sì, giocare a calcio è sempre stato il mio sogno da bambino e da ragazzino. Che ruolo giochi? Portiere. Chi è il tuo idolo, il tuo punto di riferimento? Prima era Noia, adesso è Donna Rum. Va bene. Si parla anche di mercato naturalmente qui perché i ragazzi si divertono, fanno sport e stanno insieme. E è il primo anno che fai il Camp Entella? No, questo sarebbe il terzo. Tornerai anche, ci sbilanciamo già, tornerai anche l'anno prossimo? Sì, mi sa di sì. Anche per te è il primo anno che fai il Camp Entella? No, io lo faccio da quando è iniziato e lo trovo molto divertente. Come passate le vostre giornate qui nei campi della Colmata? Ci divertiamo facendo allenamenti, esercizi sulla tecnica e poi alla fine facciamo una partita a tema o delle partite a squadre con i nostri mister. Durante l'inverno giochi a calcio? Sì, gioco a Milano, nella squadra Pozzolo Calcio. Allora ovviamente vedete che ci sono tante origini in questo Camp Entella, andiamo a scoprire allora anche tutti gli altri ragazzi che abbiamo il piacere di intervistare quest'oggi da dove vengono e dove vivono durante l'anno. Io vivo a Milano e durante l'anno gioco in una squadra di un oratorio che si chiama Colbe. Io vivo anche a Milano e andrò a giocare al Segrate che è una società di calcio. Anch'io vivo a Milano che è nel paese che si chiama Inzago e andrò a giocare a Pozzuolo. Quanti anni hai? Tredici. Andiamo avanti. Io invece abito qui a Chiavari ed è da sei anni che gioco nell'Academia Entella. E allora visto che giochi in casa ti chiedo che cos'è per te vestire la maglia bianco-celeste? Un onore. Io abito a Lavagna in provincia di Genova e gioco anch'io nell'Entella. Io abito anch'io a Chiavari e gioco anch'io da numerosi anni qui a l'Entella e per me è una gioia e soddisfazione giocare in questa squadra. Allora un giro secco, breve, mi dovete dire sì o no. Mi piacerebbe giocare in prima squadra un giorno? Sì. 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 Ci fermiamo perché sarebbero ovviamente tutti sì. Grazie. 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 Grazie.